Arturo Torregrossa rieletto presidente del comitato regionale di scherma siciliana. La sua rielezione premia il lavoro svolto durante la pandemia con risultati significativi. Torregrossa ha unito diverse società e promosso la collaborazione. Il nuovo consiglio regionale include esperti come Enzo Morghese, Ida Nicotra, Massimo Porta, Leandro Giordanella e Marcella Librizi, atleta paralimpica confermando l'impegno verso l'inclusione.